Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Risveglio amaro per Silvia Toffanin. I dati parlano chiaro, c'è un problema serio, si deve trovare rapidamente una soluzione Storico volto di Mediaset, Silvia Toffanin negli anni è riuscita a costruire attorno a sé un programma che la rispecchia in tutto e per tutto Verissimo, infatti, è come lei sobrio ed elegante ma capace di entrare nell'intimità delle persone, le interviste del sabato e della domenica pomeriggio, infatti, restano nella storia Alle prime luci di lunedì 3 ottobre, però, per Silvia Toffanin è arrivata una notizia decisamente amara Nessuno se lo sarebbe aspettato ma il comunicato è ufficiale, non c'è niente da fare, si deve correre ai ripari Verissimo, problemi per Silvia Toffanin.Programma storico di Canale 5, a Verissimo gli ospiti di Silvia Toffanin si sentono capiti e compresi e riescono a lasciarsi andare in racconti intimi e personali Le sue interviste, infatti, raggiungono sempre il cuore di ogni ospite, consentendogli di aprirsi in lati spesso inediti e difficili da mostrare Il successo degli ultimi anni ha portato Canale 5 a decidere di raddoppiare l'appuntamento, proponendolo quindi dall'anno scorso sia al sabato che alla domenica pomeriggio, dopo Amici Sebbene la paura fosse che due appuntamenti di fila fossero eccessivi e stancassero il pubblico, in realtà i fan di Silvia Toffanin di Canale 5 hanno nuovamente dimostrato il proprio affetto per la trasmissione Entrambi gli appuntamenti settimanali, infatti, riscuotono buon successo e gli invitati sono nomi del calibro di Belen Rodriguez, che non si cala spesso nei panni dell'intervistata Durante l'appuntamento di domenica 2 ottobre, Silvia Toffanin ha quindi dato voce a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Vanessa Incontrada sino a Belen Rodriguez Se la prima ha ammesso di desiderare una seconda maternità, dopo la prima di ormai 14 anni fa, la seconda ha invece sottolineato come ami ancora Stefano De Martino, con il quale oggi sta provando a ricostruire un matrimonio che ormai ha già 10 anni La puntata di domenica 2 ottobre, però, non ha dato i risultati sperati Per Silvia Toffanin quindi occorre correre ai ripari e ripensare all'appuntamento della domenica Che le partite di calcio e la Formula 1 abbiano un impatto eccessivo, sui suoi ascolti. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video